Sacro Sud anime salve, questo è il titolo della rassegna natalizia che sotto la direzione artistica di Enzo Avitabile sta portando nei luoghi di culto di Napoli artisti provenienti da ogni parte del mondo. Musica nazionale e internazionale, quella proposta da questo Festival del Sacro, come quella profondamente religiosa, Art and Soul o Gospel a Scampia, emozionando gli spettatori assepiati nella chiesa di Maria Santissima del Monrimedio, ma anche musica profondamente italiana, come quella proposta dalla strepitosa Alice con il suo Viaggio in Italia Live presso la chiesa di Santa Maria Donna Regina Nuova. Musica nazionale e internazionale, stato lessive e intenziale.